è tornato è tornato Big Rom ed è tornata finalmente la Luga ragazzi con la loro esultanza tipica oggi due gol e un assist per Romelu che si sblocca tra l'altro il primo gol una bella azione con assist di Brozo che nel primo tempo è stato inguardabile ma ne parliamo dopo Romelu si sblocca la sua azione una bella azione il secondo gol anche quello bellissimo punta l'avversario doppio passo se la porta su sinistro boom stecca così mi piace senza tanti giochetti gira che ti rigira e passa qui e passa là nè 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 punta l'avversario lo scarti tiri una stecca e via bel gol anche lì e il terzo di Lautaro con assist di Lukaku che all'ottantottesimo all'ottantottesimo prende palla ancora la forza di andare avanti vede Lautaro che poi la insacca questo cosa dimostra e come vi dicevo sempre detto e anche nelle live di Arena Sportiva quindi venite a seguirmi a supportare noi tifosi interisti che abbiamo bisogno di voi ragazzi Lukaku ha una stazza tutti i giocatori della sua stazza ma soprattutto uno come Lukaku che è proprio imponente quando subiscono un infortunio soprattutto così lungo soprattutto muscolare e soprattutto a inizio campionato dove c'è praticamente la preparazione sono le prime partite eccetera eccetera poi hanno bisogno di ricominciare da zero solo che ci sono le partite di mezzo quindi è un po' più difficile e c'è bisogno di tempo adesso Lukaku sta dimostrando che sta entrando sempre più in forma e oggi ha giocato 90 minuti e invece vi ricordate l'altra volta al 65esimo circa era là che boccheggiava non ce la faceva più oggi ha giocato 90 minuti e all'88esimo ancora aveva la forza di portare avanti il pallone e provare a fare qualcosa vedete quando uno parla e sa al contrario di uno che piace solo criticare a cazzo ma comunque andiamo avanti un primo tempo che devo dire la verità sembrava sulla falsa riga delle altre partite e passala qui e passala là e passala più qui qua più qui là un passaggio indietro poi a destra poi gira che ti rigira che io la passo cioè sembrava come le altre partite Inter in controllo del gioco e poi arrivano loro tac un tiro un gol che attenzione poteva anche esserci perché c'è stato quel momento in cui Andanovic ha fatto una grande parata perché quella è una grande parata di esperienza ok dove Cambiaghi ha il pallone sul mancino prova a scartarlo lui non si butta bravissimo perché sennò avrebbe avuto la porta spalancata ma rimane in piedi lo segue e Cambiaghi non può fare niente che provare il tiro lo stesso infatti per Andanovic bravo bravo Samir quella è una grande parata quindi c'è stata l'occasione ci sono state delle occasioni comunque di ripartenza però tutto sommato a parte quella non me ne ricordo tantissime però anche noi non è che abbiamo fatto tanto il primo tempo un Brozovic imbarazzante il primo tempo che perde palloni su palloni non sa passare una palla perde al centro campo più verso la nostra metà campo se non vado errato un pallone sanguinosissimo che poteva costare caro e per fortuna dopo l'ora hanno sbagliato il palleggio cioè ragazzi è una cosa imbarazzante poi si va bene trova l'assist per il gol di Lukaku va bene però ragazzi è una cosa del genere io non posso vederla cioè nel primo tempo a fine primo tempo mi è toccato dire che Correa stava facendo bene perché anche Lukaku lì insomma non benissimo Goses con i piedi quadrati che non beccava un cross Belanova che lo guardavano e dicevano sì ciao salve e si giravano dall'altra parte boh non so perché non si fidavano forse così contropiedi dell'Empoli dove la nostra difesa era boh non lo so a far campeggio forse non mi stava piacendo poi nel secondo tempo invece comunque Lukaku trova subito il gol perché al 48esimo fatemi vedere sì al 48esimo c'è stato il gol poi l'Empoli ha subito il colpo c'è stata un'altra partita un'altra partita dove l'Empoli praticamente non ha fatto quasi più niente poi ha trovato il secondo gol il terzo e ha gestito insomma la partita vittoria molto importante in campionato visto che comunque siamo indietro adesso che hanno ridato i punti da Juve anche lì non si capisce un cazzo li danno non li danno poi sì e poi no e poi non si sa quando questa stagione la prossima ma quanti di più di me si capisce un cazzo quindi calcolate la Juve sempre con i punti ok mi raccomando perché secondo me vi ridaranno la prossima stagione quindi era molto importante perché eravamo comunque a 5 punti dal quarto posto adesso siamo a meno 2 della Roma momentaneamente scavalcato il Milan che comunque è contro il Lecce la Roma comunque invece sarà contro l'Atalanta la Juve contro il Napoli la Lazio ha già perso quindi è una vittoria molto importante in vista delle partite perché vabbè la Juve in casa con il Napoli un Napoli che secondo me non lo so non lo so non lo so secondo me la Juve non perderà e Atalanta Roma comunque l'Atalanta si sta facendo la Roma si sta facendo bene ma ha perso due giocatori importanti per almeno 2-3 settimane che sono Smalling il leader difensivo e Wijnaldum che gli ha fatto cambiare il gioco da così a così quindi due giocatori molto importanti è un'Atalanta che se vuole provare ad andare in Champions deve per forza vincere la partita quindi questa vittoria è molto importante eravamo a 10 punti della Lazio 10 adesso siamo a 7 7 con lo sconto diretto ancora da giocare quindi c'è margine per avvicinarsi ancora abbiamo preso anche punti alla Juve eravamo se non sbaglio 58 punti adesso siamo a 5 comunque sono importanti questi punti speriamo che il Napoli faccia il suo che l'Atalanta faccia il suo o mal che vada un pareggio ma che non perda e vabbè Milano ha vinto il Giambatta in casa contro il Lecce il Lecce è pericoloso ma più in casa secondo me ritornando alla partita nostra ragazzi non c'è niente da dire c'è un primo tempo che sembrava la farsa riga degli altri un secondo tempo che per fortuna è stato trovato il gol subito e poi è cambiata completamente la partita gli attaccanti che si sono sbloccati Lautaro si è sbloccato Lukaku si è sbloccato Corea comunque ha segnato incredibile ha fatto anche una buona partita l'unico che manca la pelle è Dzeko speriamo bene che torni almeno a fare un gol per dargli un po' di morale Lukaku che è stato anche graziato quindi giustamente perché dopo che annulli la sospensione alla curva senza punire nessuno quindi tutti gli ululati eccetera eccetera impuniti tranne quei tre cojoni che perché c'è stato il video perché se non c'era il video manco loro venivano puniti quindi dopo che riappi la curva senza punire nessuno è giusto che non venga punito la vittima che era Lukaku quindi giusto così praticamente hanno chiuso gli occhi la FGC non ha voluto fare figure di merda sul caso Lukaku sulla curva sti cazzi quindi pagliacciano una parte pagliacciano insomma l'ha pagliacciato ovunque in Italia ma va bene così però dal momento in cui apri la curva a questo punto grazie anche Lukaku e vai di pari patta e via tanti saluti pagliacciata da tutte le parti sì però va bene così anche perché chiudere la curva non è che risolve queste cose qui bisogna fare di più così come dire ah graziamo Lukaku combattiamo il razzismo non lo combatti solo così ma devi fare molto di più l'hai fatto per salvarti la faccia e poi se è giusto riaprire la curva sono d'accordo che se è giusto togliere la squisica Lukaku sono d'accordo però fatto nella maniera giusta perché così è un po' brutto detto questo ragazzi noi ci vediamo domani con le pagelle sempre solo Forza Inter questa sera forse live reaction di Juve Napoli su Arena Sportiva su Twitch non lo so vediamo e vi aspetto nel caso seguiteci su Instagram sempre Forza Inter Grazie